Carissimi amici della pagina degli amici della Pocanotomia, buona domenica e oggi come vedete video diverso dal solito, di riflessione, un po' un gioco che mi è venuto in mente, quindi oggi non mi rado, mi raderò prossimamente. Il gioco è questo, facciamo un'ipotesi, dovessimo scegliere dieci rasoi definitivi, dieci rasoi da avere nel nostro parlamentario che poi rimangono quelli che sono, in modo da avere una gamma di potenzialità totale senza farci mancare nulla, ma senza neanche aver bisogno di ulteriori acquisti, ulteriori rasoi. Io faccio questo gioco, io dico i miei, vorrei che voi mi dicesse i vostri, quelli che per voi sono invece, magari sono diversi. Dovessi dire a un rasatore che inizia, guarda, comprati questi dieci rasoi e con questi dieci rasoi non avrai bisogno di niente, poi in realtà ne basta uno. Però è un gioco, io voglio avere tutte le varie sfumature, le varie varietà e al massimo io posso averne dieci. Il primo rasoio che mi viene in mente, che io consiglierei è chiaramente Ledwin Jagger. Ledwin Jagger, oppure il Muller 89, è un rasoio che si può assolutamente definire definitivo. È un rasoio sottovalutato, è un rasoio che è considerato erroneamente per neofiti, ma è un rasoio che può tranquillamente farvi il servizio tutta la vita e può regalarvi sbarbate perfette per tutta la vita. È un rasoio non particolarmente aggressivo, ma nemmeno inefficace, robusto, non troppo leggero e dal prezzo veramente basso. Quindi questa è la base, secondo me. Questo non si può non avere. Molti diranno mai lui di Kingston Classic. Sì, ma io credo che io consiglio sempre di iniziare con questo e di finire anche con questo, magari. Quindi, Ledwin Jagger è assolutamente il primo, diciamo così. Il secondo rasoio, secondo me, da avere è uno slant bar. Quando uno si stufa magari un po' della classica rasatura con il rasoio tradizionale, potrebbe voler provare una cosa di nuovo e potrebbe volersi cimentare con lo slant bar. Io non consiglio slant bar estremi, perché sono particolarmente aggressivi e sono particolarmente... magari possono portare a tagli orientazioni. Io consiglio un grande classico, il Merkur 37C, col manico corto. Questo è un rasoio di due pezzi, tra l'altro è anche molto comodo da armare, da disarmare. Ed è un rasoio che mi ha dato grande soddisfazione. È quello che ho portato in vacanza, ha una testina slant non troppo pronunciata, ma nemmeno troppo poco, e permette una rasatura quotidiana con lo slant bar. Quindi il secondo rasoio che io porterei nella mia isola deserta, chiamo immaginaria, e il Merkur 37C. È un rasoio che mi unisce efficacia e dolcezza e scorre molto bene, ha un bel bilanciamento, quindi è un rasoio che io consiglio a chiunque voglia passare, oppure ogni tanto cambiare dal tradizionale pettine, diciamo dritto, a uno slant bar. Vedete la differenza. Il terzo rasoio che io posso consigliare è per chi vuole poi cimentarsi in qualcosa di più tecnicamente complicato. Io ho imparato bene a usare il Windjagger. Mi sono cimentato nello slant bar, voglio andare un po' oltre, voglio andare un po' oltre, voglio imparare anche a gestire rasoi più efficaci e più aggressivi. E allora come non avere, questo è poi ottenuto un classico, il famoso R41. In questo caso è l'R107, se non erro, nella versione con il manico bianco, che tra l'altro è fuori produzione. Questo è un finto pettine aperto, perché in realtà, come vedete, è un pettine chiuso. Vedete che c'è una barra di sicurezza. Però è un rasoio che consente un'esposizione della lametta incredibile. Quindi è un rasoio molto difficile da gestire, però consente anche una rasatura molto profonda. Quindi questo è un rasoio che tutti i rasatori hanno un po' come mito, come timore, ma che in realtà non è, secondo me, molto utile per la rasatura quotidiana. Anche se ci sono persone che lo utilizzano, io porto rispetto a loro, non ci mancherebbe ancora. Però è un rasoio che effettivamente è una bella sfida, cioè imparare radersi senza realizzazione e senza taglio in questo rasoio e vuol dire avere già una mano, insomma, allenata, insomma, importante. Quindi chiaramente, e poi un classico, c'è proprio un must, questo non si può non avere. Quindi diciamo che il terzo rasoio che io porterei sulla mia isola è il Mule R41. Nelle varie, appunto, può essere normale, può essere il grande, può essere questo qua che è il 107, ma comunque il 41. Poi sicuramente porterei un pettino aperto. Un pettino aperto io porterei il Fatip. Io non ho particolare, come dire, timore dei pettini aperti, perché io ritengo che, come vi ho spiegato, la differenza la facciano soprattutto l'esposizione della lana. Però il Fatip rappresenta veramente ancora un particolare rasoio frutto dell'artigenerità italiana. Viene prodotto, almeno, non so se sia aumentata la produzione, ma quando io ho parlato con il titolare della ditta, che lavora tra l'altro praticamente da solo, mi pare 12.000 pezzi all'anno, viene prodotto generalmente. È un rasoio unico nel suo genere, praticamente è uno dei pochissimi che ha il suo manico non intercambiabile con altre marche. Tanto per intenderci, noi possiamo scambiare il manico di un mule con il manico di un ninja agghiere, questo no, questo qua è proprio lui. Ha una forma particolare, è un rasoio particolarmente incisivo. Italiano, le rifiniture non sono forse a livello dei migliori, ma il rasoio li vale tutti. Il prezzo è assolutamente basso e quindi, siccome nei miei, diciamo dieci, top ten, una pettina aperta sicuramente ci va, ecco che allora io scelgo il Fatip classico, il Fatip grande, insomma. Comunque il Fatip. Ho anche il Fatip piccolo volendo, però comunque la testa è sempre la stessa, quella aperta, pettina aperta. Poi chi vuole c'è anche il Fatip gentile che è la stessa testa, semplicemente hanno messo una barra. Poi, e siamo già a quattro, quindi abbiamo detto il Jagger, abbiamo detto il Mule R41, abbiamo detto il Mercure 3G e abbiamo detto il Fatip open com, diciamo così, testa aperta. Poi, arriviamo al quinto. Il quinto io direi un regolabile. Un regolabile perché comunque è un rasoio che consente una grande gestibilità e consente di regolare appunto la potenza di taglia secondo le non esigenze. Beh, io credo che in questo momento, per cui sono quelli che sono i miei gusti, poi ripeto, quello che porterei nella mia isoletta deserta è sicuramente il Mercure Progress 500, ma ne ho porto. Progetto assolutamente collaudato, consente una regolazione anche estrema in apertura. Guardate. alla massima apertura è più aggressivo addirittura di qualsiasi altro rasoio, probabilmente. Tutto chiuso e invece un rasoio è molto gestibile. È un bel oggetto. Alcuni lo criticano per questo nottolino in polimeri, ma secondo me ci sta, cioè non ne rovina la qualità. Il peso è adeguato. Insomma, è un rasoio che io ho utilizzato molto, tra l'altro molto ben fatto, molto ben definito, secondo me, sono i miei gusti. Prezzo accettabile, insomma, quindi un regolabile. Ecco che abbiamo la possibilità di portare il nostro Mercure Progress 500. E siamo già a cinque rasoio. Adesso andiamo, diciamo, nel sesto. L'altra tipologia, no? Abbiamo ancora due tipologie fondamentalmente da portare. Il sesto è un rasoio che abbia due teste, cioè una testa con doppia valenza. Da una parte pettine aperto, da una parte pettine chiuso. E io a questo punto scelgo l'Icon 101, che, come vedete, ha, abbiamo già provato in rasatura, due tipi di impostazione. Questo va benissimo, ad esempio, se noi abbiamo l'esigenza di raggiarci settimanalmente, per dire, no? Perché cosa facciamo? Noi possiamo usare il pettine aperto per disciplinare il pelo in fase di pelo. Quindi, pelo lungo si disciplina. Poi, per fare il pelo obliquo e il contropelo, pettine chiuso. Questa è una soluzione che, ultimamente, sta venendo fuori, molte marche producono rasoio del genere, che non è questo, rappresenti forse la soluzione, la soluzione qua con manico tacui, manico piccolo, la soluzione migliore, secondo me, almeno quella che io preferisco. E siamo già a sei rasoi. Settima tipologia che non può mancare, un single edge. L'ama singola, l'ama lunga, l'ama diversa. E tra tutti io scelgo il Razorrock Black Hawk. Questo è un rasoio eccezionale. Questo è un rasoio eccezionale. Guardate com'è lungo, com'è... quanto prende la lama. Armato con delle lamette, magari con delle cai, su cui è un po' sporco di sapone, dopo devo lavarlo. Questo è un rasoio veramente delicato, cioè non ci si taglia, è impressionante. Questo è l'Edwin Jagger, diciamo, dei single age. E consente di montare... D'altro rasoio dal prezzo limitatissimo, leggerissimo, consente di montare lame chirurgiche e di gestirle. Cioè, anche il rasatore meno esperto, io trovo che con questo non rischi disastri. Infatti io l'ho usato molto. Il problema di questi rasoi è che le lame sono molto care, a differenza delle lame normali. Però io l'ho usato molto e devo dire che Black Hawk, questo qua, è un rasoio eccezionale e io lo porterei, quindi sarei il settimo rasoio che ho portato sull'isola deserta. Poi passiamo, diciamo, agli ultimi tre. E gli ultimi tre siamo un po' sul di più. Noi abbiamo esaurito tutte le tipologie, no? Praticamente. Circa. L'ottavo per me sarebbe il Pils. Il Pils perché il Pils è un rasoio, tanto vabbè, è caro. Cioè, parliamo di un rasoio di 200 euro. Particolare proprio per il suo modo di essere costruito, preso nel pieno dell'acciaio, acciaio inox. È particolare perché questo ci porta a una tecnica di rasatura diversa, no? Cioè noi ci radiamo giocando molto veramente sul peso della testa. Mentre gli altri rasoi sono bilanciati diversamente, questo qua è bilanciato sulla testa, è un martello praticamente, no? E quindi porta il rasatore a nuove esperienze di rasatura. L'aggressività è media, non alta sicuramente, ma non così bassa. E rappresenta ancora, anche questa è una piccola sfida, cioè non è così facile andare a si colpire. In realtà è un rasoio che necessita di una tecnica diversa, quindi lo porterei perché è un qualcosa di diverso. Quando voglio ricambiare, insomma, siamo già a otto. Mancano due. Io sono molto, era molto come dire, combattuto per questi ultimi due. Ho pensato, ho detto, ma uno sicuramente, anche qua per cambiare un po', potrebbe essere il Rocknell Single Edge. Questo è un rasoio che presenta due caratteristiche, un peso molto importante, una testa, pezzo unico, in cui si inserisce la mezza lama. Anche questo è un rasoio molto, molto efficace, ma necessita di una tecnica molto importante, quindi devi essere capaci di usare questo qua. Molto bello, tra l'altro, esteticamente. Un bellissimo acciaio. In particolare il meccanismo, cioè, a incastro. Si spezza la lama e si incastra qua dentro, in questa piccola, vedete, questa piccola fessura. E quindi è un rasoio particolare, ecco perché nono, perché è sicuramente un di più, però ogni tanto può essere divertente, io infatti ogni tanto lo faccio, utilizzarlo per, perché comunque è un rasoio molto, molto esposto, la lama è molto esposta, e quindi è assolutamente uno strumento che potrebbe essere inserito in questi dieci, come nono. Il decimo, beh, il decimo io ne ho preso uno, non a caso, perché questo è uno degli ultimi che ho acquistato, che è un Gillette Diplomatic, questo mi pare che sia del 1963, mi sembra, se non erro. Questo è un rasoio che ha la classica testina della Gillette TTO, a farfalla, questo è un vintage, chiaramente, dorato, e un rasoio che ha rappresentato, ecco perché lo porterei, un classico nella storia della rasatura mondiale. Non tanto questo modello in particolare, ma proprio questo meccanismo, questa testina. Ora, io recentemente ho avuto un parente ricoverato in una clinica e ho conosciuto un signore anziano che utilizzava ancora un Gillette degli anni Sessanta e io ho chiesto, perché ovviamente era affascinante vedere un signore molto anziano radersi, avere vicino al comodino il rasoio di sicurezza, un Gillette, mi pare che fosse un Rocket, credo. E gli chiedi, ma di che anno è? E lui dice, ma io non l'ho mai cambiato, me lo regalarono quando avevo 40 anni, adesso il signore ne ha praticamente 90 e ancora oggi lui si radde con questo tipo di testa, che quindi è un rasoio definitivo, è questo. Poi chiaramente è un vintage, quindi cromato oro, quindi non va usato. Però per la rasatura, diciamo, un vintage, ecco, io sceglierei un Gillette. Questo è uno, ma ce ne sono tanti, c'è Fart Boy, Slim Boy, il President, chi ce l'ha, l'Aristocrat, insomma, ce ne sono tantissimi, però sceglierei uno di questi rasoi. Va bene, è un gioco, io chiedo a voi quali rasoi portereste, facciamo 10 possibilità sull'isola deserta, e niente, buona domenica a tutti, un saluto e se potete fare un po' di pubblicità nella pagina in modo da avere più like, così siamo tutti più contenti. Buona domenica!